Qual è il rapporto tra digitalizzazione e sostenibilità? La digitalizzazione è un elemento fondamentale per la sostenibilità delle infrastrutture, anche nel nostro position paper un ampio capitolo della nostra proposta è legata a questo. Perché? Perché è chiaro, se noi pensiamo a un'infrastruttura sostenibile, per la quale dobbiamo ovviamente avviare una procedura di stakeholder engagement, quindi di discussione con la collettività e con gli enti autorizzatori su quali sono le soluzioni progettuali migliori, è chiaro che per esempio se abbiamo un modello digitale dell'opera, il cosiddetto gemello digitale o digital twin, questo ci permette di fare delle simulazioni, di far capire bene come funziona l'infrastruttura, quali sono i suoi pregi e quali potrebbero essere le modifiche da effettuare. Pensiamo anche ai fattori manutentivi. Quindi oggi credo sia normale dotare le strutture e le infrastrutture di sensoristica per capire lo stato di gestione e dell'infrastruttura stessa. Quindi se noi colleghiamo questa sensoristica a un modello digitale, possiamo per esempio fare della manutenzione predittiva anziché della manutenzione ordinaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo la manutenzione quando serve. Questo permette di risparmiare costi, permette di impattare meno sull'ambiente, perché magari la facciamo con una frequenza diversa. Possiamo avere una piena contezza di qual è lo stato dell'infrastruttura. Ma ci sono tante altre cose. Pensare per esempio a sistemi di realtà virtuale o di cosiddetti mixer reality in cantiere ci permette di verificare al momento se stiamo realizzando quanto è veramente progettato. Possiamo modificare in cantiere i disegni di progettazione e avere un esbuild reale di quello che è l'infrastruttura. E così ci sono anche tanti altri esempi che ci fanno capire che la digitalizzazione è fondamentale. Pensiamo solo anche per esempio alla valutazione del life cycle assessment dell'opera, quindi capire su tutto il ciclo di vita quali sono gli impatti ambientali dell'infrastruttura. Se non abbiamo un modello digitale e i dati dei prodotti per quanto riguarda gli impatti ambientali diventa praticamente impossibile fare queste valutazioni. Quindi le due cose vanno di pari passo e dobbiamo trovare delle metodologie e anche dei suggerimenti da dare al mondo della progettazione, al mondo della produzione dei prodotti innovativi perché questi due aspetti si accoppino in maniera indissolubile.